Aumentano sensibilmente i ricoveri negli ospedali della Campania a causa del covid. Per la prima volta dopo diversi mesi tornano sopra i 600. Sono in particolare 615 gli ospedalizzati. 34 si trovano nelle parti di terapia intensiva mentre nelle parti di degenza ordinaria ci sono 581 persone. In un mese le persone ricoverate sono letteralmente raddoppiate da 333 a 615. Mentre sono di 7.663 nuovi casi covid registrati nell'ultimo bollettino giornaliero della regione Campania a fronte di 50.759 tamponi tra molecolari ed antigenici analizzati nei laboratori della regione. Il tasso di positività è del 36,77 per cento giornaliero ancora una volta enormemente più alto rispetto alla media nazionale. Un boom di ricoveri e di contagi nonostante il gran caldo di queste settimane è un dato in controtendenza rispetto agli ultimi due anni di pandemia caratterizzati da numeri bassi in questo periodo. Inoltre per gli esperti i numeri dei bollettini quotidiani non rappresentano lo stato reale delle cose. La diffusione dei test anti covid di autodiagnosi stanno falsando il quadro generale dell'andamento epidemico. I positivi quindi sarebbero molti di più considerando che l'esito positivo del test di autodiagnosi spesso non è comunicato dai cittadini per non incorrere alle limitazioni. Con la fine dello stato di emergenza quindi i cittadini si sono rilassati ma questo comprensibile calo di attenzione proprio mentre si diffonde la più diffusiva subvariante Omicron rischia di diventare un'arma a doppio taglio.